Ciao a tutti, oggi nuovo consiglio letterario e per l'occasione rispolveriamo di nuovo la rubrica libri, what the fuck! Ebbene sì, perché il libro di cui vi parlerò oggi è un libro molto molto strano, una delle letture più originali e strane che abbia letto recentemente. Credo di non aver mai letto un libro che sia simile a questo, è abbastanza uno stand out, se vogliamo, e sono felice di trovare ogni tanto dei titoli che sappiano colpirmi per la loro originalità in un mercato saturo di letture, anche quando sono di enorme valore. Il libro in questione è Amatka, di Karin Tidbeck, edito Edizioni Safarà, una piccola gemma che vi invito a scoprire. Ma andiamo con ordine. Se dovessimo trovare dei punti di riferimento per farvi comprendere l'atmosfera del libro, dovrei parlarvi di Jeff Vandermeer, che è l'autore dietro la trilogia dell'Area X, Annientamento e via dicendo. E quindi tutto quel filone weird sci-fi che adesso sta portando un bel po' di stranezza metafisica, fantascientifica e distopica all'interno di nuove opere letterarie. Ve lo nomino perché Jeff Vandermeer è anche l'autore che ha spinto questo libro, sponsorizzandolo come una delle migliori letture che abbia mai fatto. Quindi io cerco di essere abbastanza scettico quando vedo autori di grande fama spingere libri come i migliori che abbiano letto, ma in questo caso li credo dopo aver goduto di Amatka. Non tanto in quanto il libro più bello dell'esistenza, quanto gli universi, il mood e l'originalità che pervade il libro della Tidbeck e può ricordare appunto la trilogia dell'Area X o comunque questo nuovo approccio letterario del weird fantascientifico. Il libro della Tidbeck è soffuso, è atmosferico ai massimi livelli ed è particolarmente convincente dal punto di vista strutturale, anche solo dalle prime pagine. È un libro che racconta sin da subito una vicenda che spiazza perché non si colgono risposte o riferimenti sin da subito. Il libro segue il personaggio di Vanya. Vanya è una ragazza che sta prendendo un treno, è partita da una colonia alla quale lei appartiene, che è Estre, per arrivare appunto ad Amatka, un'altra colonia. Pian piano che leggiamo, pian piano che la seguiamo, noi capiamo che il mondo descritto da questo romanzo non è il nostro mondo, è un pianeta altro e si rimane abbastanza sul misterioso da quel punto di vista perché quello che mi è piaciuto è che quest'universo alternativo, quest'altro pianeta, quest'altro luogo che può essere fisico o immaginato psicologicamente, è un luogo che viene descritto come se fosse il mondo reale, non un mondo altro e quindi con le sue stranezze, però cercate di seguirmi, non ti dà mai l'impressione che si stia raccontando una storia di fantasia, nonostante l'ammontare di stranezze e di note inspiegabili. È un libro dove tutti gli elementi magici, se vogliamo fantasiosi, si svelano sotto testo. È una storia infatti raccontata con grande secchezza. Secchezza in che senso? Nel senso che la prosa è molto fredda, gelida, sfrutta anche delle frasi brevi che permettono di godere comunque del ritmo, della narrazione, ma in un modo abbastanza lento, abbastanza anche meditativo. L'ambiente che si descrive qui dentro dal punto di vista ambientale è un ambiente che può ricordare certe atmosfere da pacco polacco, un clima gelido, c'è la tundra, è tutto grigio, è tutto scuro e può rimandare appunto a certi paesaggi dell'est Europa oppure ancora a zone remote del nord Europa. E quello che si racconta è un'utopia corrotta, se vogliamo. Ma chi è Vanya? Vanya è la nostra protagonista che viene appunto inviata per lavoro in quest'altra colonia. Quello che noi sappiamo è che questo mondo alternativo è strutturato in colonie dove alcuni uomini le hanno fondate in un passato poco identificato. Sono venuti da un'altra parte, quindi dovremmo intendere il nostro mondo, il pianeta Terra, per promettere alla nuova umanità di sopravvivere in un certo senso. E quindi c'è un certo senso di misticismo e di non detto intorno all'origine di queste colonie. Ma attraverso il lavoro di Vanya noi capiamo già subito che c'è qualcosa di effettivamente strano. Vanya è mandata ad Amatka per registrare e schedare tutti i prodotti di igiene personale. E quindi saponi, shampoo, trucchi, cosmetici. li cataloga in modo abbastanza metodico e certosino. E pian piano scopriamo che la legge, diciamo, che domina questi luoghi è il fatto che bisogna sempre catalogare e ripetere continuamente la parola identificativa di ogni singolo oggetto. Non solo in realtà degli oggetti, ma anche proprio delle persone. Quindi c'è la parola che deve essere controllata in un certo senso perché dona agli oggetti un'identità, l'identità propria. Che cosa succede nel caso in cui si sbagli a chiamare un oggetto con il suo nome? Si disfa. Ed è quello che succede a Vanya con una valigetta. La sua valigetta si disfa in una melma inquietante, aliena e che perde completamente del suo corpo. E Vanya inizia, in un certo senso, a essere anche spinta da una forte attrazione che lei prova per Nina, questa ragazza che conosce ad Amatka, a cercare delle risposte. Attenzione poi a come vengono descritte le relazioni in questo libro. Sono relazioni fortemente represse, nel senso che non vi è una manifestazione totale dell'amore o quantomeno anche della rabbia, delle emozioni. È come se anche gli esseri umani vivessero in una mania del controllo in un modo gelido, freddo, senza appunto sentimenti. Vanya inizia a porsi delle domande a cercare di capire la situazione. E noi in un certo senso con lei. Ma la cosa interessante è che Vanya, essendo abitante di questa utopia corrotta dove appunto c'è un controllo totale sul linguaggio, ma per la salvezza dell'umanità, tra virgolette, quindi non è proprio una distopia, a mio parere. È proprio un mondo altro. Un mondo altro dove c'è addirittura una parvenza di falsa libertà. Nel senso che comunque si vota tranquillamente, ci si può eleggere tranquillamente anche a livello politico, si possono stringere senza nessun problema relazioni omosessuali, non c'è una parvenza di discriminazione verso le minoranze. Insomma, non è un classico clima distopico. È una cosa molto più ambigua, molto più strisciante e che proprio per questo è inquietante ai massimi livelli. Ed è il linguaggio il vero motore del romanzo, di come il linguaggio possa essere anche un'arma effettiva, un elemento anche pericoloso. Non è un caso, quindi, senza farvi i grossi spoiler, che la ribelle di questo romanzo, che non è Vania, ma un altro personaggio chiave, che dapprima viene presentato in modo quasi mistico e poi assume sempre una maggiore importanza, sia una poetessa. Perché il poeta è colui che gioca con le parole e che attraverso una parola sa dare significati altri. Quindi è interessante come in questo libro la parola abbia un'unica sfumatura inizialmente. Ad esempio, matita. Questa è una matita e basta, non può essere altre cose. Il poeta fa l'esatto opposto e quindi in una società del genere non può che essere ribelle, non può che essere colui che guardi al di là delle barriere e che non abbia paura di trasformarsi in qualcos'altro, di espandersi al di là della contenitore, della prigionia che è il proprio corpo. Da come vi sto raccontando questo libro temo che lo possiate cogliere come una lettura molto complicata. In realtà non lo è. In realtà è molto facile immergersi in quello che l'autrice ci sta raccontando, che sta affrescando. Dico affrescare perché il mondo è proprio dipinto da come viene raccontato. Sin da subito noi possiamo sentire gli odori, i rumori. C'è un uso, nonostante la scrittura sia molto semplice, l'ho trovata efficace perché c'è un uso giusto, sensoriale degli aggettivi che mi è piaciuto molto. E quindi c'è un gioco del linguaggio anche proprio nella prosa in cui è raccontato il libro. Un libro che mi ha sorpreso per la sua originalità e che nelle ultime pagine dove proprio il weird prende il sopravvento sembra quasi che tutto il libro fosse un lento peregrinare verso una piscina di punti di domanda, un abisso di punti di domanda e non poteva che esserci un'altra conclusione, secondo me, perché è laddove le certezze crollano, le certezze non solo esistenziali ma anche proprio del linguaggio e del nostro modo psicologico di vedere il mondo. Quindi, questo mondo che è stato descritto è veramente fisico nella logica del romanzo oppure è inventato, immaginario attraverso l'occhio dei personaggi? È una domanda che mi sono posto perché è un libro che porta la riflessione su questo e che ho trovato estremamente affascinante. Per questo motivo ve lo consiglio caldamente è una piccola gemma da riscoprire quindi leggetelo perché ne vale la pena. Fatemi sapere se l'avete letto lo conoscevate, non lo conoscevate lo leggereste, non vi interessa fatemi sapere insomma. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao.